Eccoci qua, buonasera, il telegiornale parte con purtroppo quello che è uno dei più gravi fatti accaduti da quando è iniziata la guerra di Gaza, dopo ovviamente l'orrore del 7 ottobre, perché oggi c'è stato un gravissimo incidente, proprio a Gaza erano arrivati i tir con gli aiuti, soprattutto viveri ma anche medicinali per una popolazione civile che come sapete è ridotta una condizione gravissima di indigenza, di difficoltà, di mancanza di tutto. E c'è stata ovviamente una corsa verso questi camion che si è trasformata poi in tragedia tra la calca e anche colpi di pistola, colpi di fucile, di altre armi che sono stati esplosi verso quella stessa povera gente. Si parla, lo dice Hamas, che ha il controllo, come si sa, dell'ordine pubblico di Gaza e anche purtroppo della conta delle vittime, che ci sarebbero 112 morti. L'esercito di Israele ammette in parte di aver sparato, ma questo può aver riguardato soltanto una parte delle vittime minoritarie, diciamo, si parla di una decina, ma comunque è chiaro ed è evidente che è un episodio grave anche perché l'esplosione di colpi tra la folla, di raffiche tra la folla, può aver portato ulteriormente al panico che poi ha portato ai tantissimi morti nella calca. E' un dato di fatto che da tutto il mondo, soprattutto dall'ONU, ma anche da Stati Uniti, Europa, la stessa Italia, si chiedono due cose immediatamente. Una ricostruzione di cosa è successo e come e quindi delle responsabilità e a questo punto un cessate il fuoco immediato sulla striscia. La situazione, peraltro, è in qualche modo surreale perché si è vicinissimi, secondo quanto dicono molte fonti, a un accordo. Tant'è che Biden, di fronte alle esitazioni israeliane questo pomeriggio, poche ore fa, ha parlato sia con l'emiro del Qatar sia con il presidente dell'Egitto per favorire un accordo, un'intesa immediata, un cessate il fuoco che duri da subito fino almeno alla fine del Ramadan, il mese sacro per l'Islam che inizia tra una settimana, in modo da disinnescare immediatamente ulteriori rischi di estensione del conflitto. Capite anche dalle mie parole quanto è grave questa situazione. L'Italia ha preso posizione immediatamente con Tajani chiedendo un cessate il fuoco immediato. Ma è chiaro che questa domanda viene da tutti e domani ci sarà la riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Oggi però anche l'altra guerra è in prima pagina perché Putin nel suo discorso alle Camere riunite due settimane o poco più dal voto proprio per la sua possibile, è data per scontata rielezione, ha usato il linguaggio più duro nei confronti dell'Occidente. state alla larga dall'Ucraina e dalla guerra perché sennò c'è il rischio di un conflitto nucleare e ha lanciato anche altri avvertimenti, il numero uno del Cremlino. In Italia il fatto principale a nostro avviso è la serie di elementi che sono stati dati dal Ministro interno Piantedosi nell'informativa alla Camera sui fatti di Firenze e soprattutto di Pisa, i manganelli usati contro i giovani manifestanti. Ovviamente siamo aperti all'autocritica, ovviamente siamo turbati anche noi da quelle immagini, ma siamo contrari ai processi sommari della linea di Piantedosi e quindi del governo. Schlein ha fatto subito notare che non c'era neanche una parola di considerazione di quello che è successo ai giovani di solidarietà a chi è stato vittima di quelle manganellate. Ma ci sono molti altri fatti e domani si decide se riaprire oppure no, si comincia a decidere se riaprire oppure no il caso della strage di Erba. Questo è altro già dai titoli tra un minuto. Orribile strage di civili nella striscia di Gaza attorno ai camion che trasportavano aiuti umanitari. Sono almeno 112 morti, più di 700 feriti, dice Hamas, che attribuisce le responsabilità all'esercito israeliano che avrebbe aperto il fuoco per disperdere la folla ammassata attorno ai mezzi e anche ai carri armati. Un intervento in risposta ai tentativi di saccheggio, la risposta dei vertici dell'esercito di Tel Aviv. E dopo quelle orribili immagini e le orribili notizie che sono arrivate dalla striscia, sono numerose le reazioni a livello internazionale. Diversi dei paesi più influenti e anche l'Italia chiedono un immediato cessate il fuoco. Per la Casa Bianca si tratta di un gravissimo incidente e Biden scavalca Netanyahu e si rivolge direttamente all'emiro del Qatar e al presidente dell'Egitto per cercare la cornice di un accordo immediato di cessate il fuoco con lo scambio tra ostaggi e detenuti palestinesi e anche una tregua che duri 40 giorni fino alla fine del Ramadan almeno. La minaccia di Putin all'Occidente nel discorso fatto ai membri delle due Camere del Parlamento russo in vista delle elezioni tra 17 giorni. Restate fuori dall'Ucraina, ha detto all'Occidente, o si rischia di arrivare a un conflitto con armi nucleari che noi possediamo e all'annientamento della civiltà. Putin ribadisce che Mosca non ritirerà mai le sue truppe dall'Ucraina. L'obiettivo resta quello di eradicare il nazismo e difendere la sovranità e la sicurezza dei russi. Nessuna parola su Navalny, cui i funerali sono domani a Mosca. E in questo momento gli Stati Uniti dicono che le parole di Putin su una possibile guerra nucleare sono irresponsabili. Il ministro dell'Interno piante dosi in informativa Camera e Senato sulle manganellate della Polizia a Firenze e Pisa respinge i processi sommari alle forze dell'ordine. Non esiste alcuna contrazione della libertà d'espressione in Italia, dice. Dopo avrà ammesso di essere rimasto agli stessi turbato dalle immagini dei ragazzi colpiti e feriti e di essere pronto anche ad autocritiche. Il ministro ricorda che la manifestazione non era autorizzata. La posizione all'attacco, il clima lo avete creato voi e il PD denuncia la mancanza di qualsiasi parola di solidarietà nell'informativa verso i giovani manganellati. Domani presso la Corte d'Appello di Brescia ci sarà la prima udienza di revisione per verificare se c'è la possibilità di riaprire una revisione del processo che ha portato in via definitiva alla condanna a Olindo Romano e Rosa Abazzi, ergastolo per la strage di Erb in cui furono uccisi Raffaella Castagna, la madre Paola Galli, il piccolo Youssef Marzouk e la vicina di casa Valeria Frigerio. Omicidi che in tempi diversi entrambi confessarono. Il giudice dovrà decidere se accogliere le richieste della difesa e ammettere prove che vorrebbero ribaltare la sentenza o se bocciare in toto l'istanza di revisione. Olindo e Rosa sono annunciati in aula. Buonasera, è anche pesante per chi mette insieme un telegiornale dover aprirlo con delle immagini che sono veramente terribili perché documentano dall'alto quello che è successo oggi a Gaza, quello che è stata, uso questa volta le parole che ha usato il segretario di Stato Vaticano poche settimane fa, una carneficina. La gente, la popolazione estremata di Gaza affluiva in modo ovviamente convulso verso i camion, i tir che portavano i generi alimentari, i soccorsi, gli aiuti, i medicinali ed è successo quello che stiamo per vedere. Sono le 4.30 del mattino a Gaza, migliaia di persone affamate si ammassano intorno ai camion che portano aiuti umanitari. Cominciano gli spari, le urla, la folla sotto sciocco comincia a correre, la calca è impazzita, i corpi insanguinati, i cameraman di Al Jazeera documentano la scena e il panico. Quello che è già stato nominato il massacro della farina è l'ultimo episodio di una Gaza ormai allo stremo dove l'ordine pubblico non esiste più. 112 morti, 760 feriti e il bilancio che si aggiorna di ora in ora fornito da Hamas. Cosa è successo? Le versioni si rincorrono da questa mattina, Hamas descrive l'attacco come un crimine di guerra senza precedenti e denuncia che l'esercito israeliano avrebbe aperto il fuoco sulla folla. Secondo la versione della tv del Qatar, mentre la folla aspetta il cibo, arrivato con una trentina di camion, cominciano gli spari, la calca fuori controllo. I camion che avrebbero dovuto consegnare aiuti alimentari sono invece utilizzati per togliere dalla strada i corpi dei palestinesi uccisi e per trasferire i feriti nelle strutture sanitarie più vicine. Morti e feriti vengono trasportati anche su carri trainati da asini. L'ospedale di Al Shifa accoglie centinaia e centinaia di feriti ma la struttura non regge. Quest'uomo racconta siamo andati a prendere la farina per i nostri bambini e abbiamo mangiato cibo per animali per due mesi. Siamo dovuti scappare. Dall'altro lato Israele, l'esercito, diffonde immagini satellitari della gente ammassata intorno ai camion. In mattinata il portavoce dell'esercito sostiene che le vittime sono dovute alla calca e alla reazione dei conducenti dei mezzi impauriti che avrebbero falciato la folla. Poi cambia versione. I soldati che erano lì per assicurare il transito dei convogli hanno aperto il fuoco dopo che all'altezza di Rimal uomini armati hanno cominciato a sparare e iniziato a staccheggiare i camion. A quel punto, sentendosi minacciati da decine di civili, avrebbero risposto con il fuoco. La maggior parte delle vittime sarebbero comunque rimaste schiacciate nella calca, altre travolte dai camion. Alle 18.30 il premier Netanyahu tiene una conferenza stampa. Non cederemo ad Hamas e continueremo la guerra finché non avremo raggiunto una vittoria decisiva, dice. Ma non andrà così perché evidentemente si è mossa al più alto livello la diplomazia internazionale. Quel ora basta che immagino abbiano detto e pensato tutti vedendo queste ennesime immagini è l'ora basta che è stato pronunciato appunto da ministri degli esteri come quello italiano ad esempio, ma di tutto il mondo e anche dalla Casa Bianca che proprio oggi parlava di un numero di vittime civili complessive dall'inizio della guerra di Gaza di 25 mila tra donne e bambini. Oltre il tollerabile è necessario il cessato del fuoco immediato, un cessato del fuoco che Biden vuole ottenere e proprio in queste ore scavalcando anche Israele e ovviamente Hamas concertandolo direttamente con l'emiro del Qatar e il presidente egiziano del Sisi in grado tutte e due di convincere le fazioni a una tregua di 40 giorni. Un grave incidente che sottolinea l'importanza di allargare e rafforzare l'afflusso di assistenza umanitaria Gaza anche attraverso un cessato del fuoco temporaneo. È il convento della Casa Bianca all'ultima strage di Gaza nel giorno in cui il Pentagono rivela che in base alle proprie informazioni sono oltre 25 mila le donne e i bambini palestinesi uccisi finora. Stiamo controllando tutte le versioni, sono le parole di Joe Biden. So che quello che è successo oggi creerà complicazioni nei negoziati per la tregua, ma la speranza non muore mai. Biden oggi ha parlato sia con l'emiro del Qatar al Tani, sia col presidente egiziano al Sisi per un accordo su un cessato il fuoco immediato e prolungato di almeno sei settimane in cambio del rilascio degli ostaggi. Proprio Biden qualche giorno fa era stato il più ottimista, l'accordo arriverà lunedì, aveva azzardato prima di essere contraddetto sia da Israele che da Hamas. Hamas che oggi ha subito commentato i morti di Gaza rischiano di far saltare del tutto i negoziati. Nel pomeriggio è arrivata la notizia che gli inviati israeliani stanno rientrando in patria dal Qatar. Toccherà il Consiglio di Sicurezza israeliano valutare i risultati della missione, ma Netanyahu già parla di richieste deliranti da parte di Hamas. Tra poche ore si riunirà d'urgenza a New York il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta dell'Algeria. Poco fa è intervenuto anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres. Sono sconvolta, ha detto, da quello che è successo a Gaza e ripeto il mio appello per un cessato il fuoco immediato e il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi. Chiedo misure urgenti perché gli aiuti umanitari possano arrivare dentro e attraverso Gaza. Per mesi i responsabili delle agenzie dell'ONU avevano lanciato l'allarme sulla situazione nella striscia. La mancanza di cibo e il collasso dell'ordine costituito avrebbero potuto provocare episodi come quello di oggi. Anche l'Italia si aggiunge alla lista dei paesi che premono per fermare la guerra. C'è stato il fuoco immediato, rilascio degli ostaggi, più aiuti e più protezione dei civili palestinesi da parte di Israele. È quel che chiede il ministro degli esteri italiani. Anche Giorgia Meloni in un tweet parla di profondo sgomento per quanto accaduto oggi a Gaza. La Presidente del Consiglio chiede che Israele accerti le responsabilità e di intensificare gli sforzi sui negoziati. Proprio in questi minuti il portavoce dell'esercito israeliano ha ribadito che noi non abbiamo sparato alla gente di Gaza che cercava aiuti. Queste le parole, è proprio il titolo di quello che ha detto il portavoce Agari dell'esercito di Israele e ha detto che assolutamente non ci sono stati spari da parte di israeliani. C'è stato soprattutto uno scontro anche tra palestinesi. Ma ovviamente è questo che si vuole evitare, che tutto venga annegato poi nel rimbalzo delle accuse e delle controaccuse. Adesso è comunque la misura colma. In una guerra, in mezzo a una guerra c'è una popolazione civile che va preservata, almeno da adesso in poi, con l'impegno di tutti. Ma vedrete che è questione di pochi giorni, ma questi pochi giorni potrebbero essere veramente cruciali. Come cruciale è la situazione nell'altra guerra? Perché avrete visto la recrudescenza di parole e non solo in questi ultimi giorni. E oggi si è toccato l'apice e lo si immaginava per il discorso più volte preannunciato davanti alle camere riunite di Vladimir Putin a Mosca. Parole che sono state molto chiare, molto dure, molto allarmanti. Non una parola su Navalny, ma molto sulla forza nucleare russa, che l'Occidente, secondo Vladimir Putin, nel suo discorso annuale alla Duma, non sembra considerare con la giusta preoccupazione. Devono capire, alla fine, che abbiamo anche noi un'arma, lo sanno molto bene, abbiamo anche noi delle armi che possono infliggere una sconfitta totale ai loro territori. Per Putin il futuro della Russia è tutto nella contesa e in corso con l'Occidente. Uscirne vincenti significa creare un equilibrio fra grandi potenze, un mondo solido. Nonché riuscire a rompere l'accerchiamento, Mosca non fa mistero di sentirsi aggredita. Non siamo noi di aver iniziato questa guerra nel Donbass, l'ho detto già più di una volta, ma faremo tutto quello che è nelle nostre forze per riuscire a metterle fine e eradicare il nazismo, che è uno degli obiettivi dell'operazione militare speciale. E per difendere la sovranità e la sicurezza dei nostri cittadini. L'operazione militare speciale ha ovviamente un ruolo centrale nel discorso del leader del Cremlino. L'Occidente non deve farsi illusioni, i nostri soldati non si ritireranno, non falliranno, non tradiranno. L'Ucraina è solo una parte dello scacchiere dove Russia ed Occidente si battono. L'America, sottolinea Putin, ci accusa di ogni nefandezza, di voler attaccare l'Europa, cosa completamente, prima di senso, o di voler armare i satelliti nello spazio. L'obiettivo è chiaro. Capiamo anche che l'Occidente sta cercando di tirarci in una corsa agli armamenti, chiaramente anche nei tentativi, negli esperienti che hanno utilizzato ancora negli anni Ottanta con l'Unione Sovietica. Ma abbiamo imparato la lezione, continua il Presidente russo, e sappiamo tenere il passo. Adesso abbiamo pronti nuovi missili balistici intercontinentali Sarmat, li stiamo producendo in serie e presto verranno consegnate le nostre forze armate nelle zone di combattimento. Nella retorica dell'accerchiamento del grande sacrificio delle truppe, non una parola sui fatti più recenti. Nulla sull'omicidio di Navalny. Domani alle 12 ci sarà il funerale, poi la tumulazione nel cimitero Borisov, già blindato dalle forze dell'ordine. Nel mirino anche, e di nuovo, il giornale d'inchiesta russo. Novaya Gazeta, oggi le forze di sicurezza hanno messo le manette al suo direttore, Sergei Sokolov, accusato di avere screditato le forze armate. Questa la situazione, un Putin che anche e soprattutto in vista delle elezioni, tra tre domeniche evidentemente non ha nessuna intenzione di frenare rispetto alle sue minacce. Ma del resto la situazione in Ucraina e attorno all'Ucraina è forse tesa più che mai. Sapete i rischi di coinvolgimento della Moldavia per via della Transnistria. E non soltanto questo. Nessuna minaccia dalle forze russe dispiegate in Transnistria come peacekeepers. La portavoce del comando suducraino, Natalia Umeniuk, ha spiegato che dal confine occidentale non può arrivare alcun pericolo, anche perché è stato messo in sicurezza già da due anni, da quando con l'invasione russa fu chiaro che Mosca aveva un piano di sbarco che avrebbe dovuto conquistare tutto il sud fino ad Odessa e al suo porto. Quel porto che sia la letteratura che le cronache descrivono come luogo di mille traffici, legali e illegali, e che ha fatto comodo anche al contrabbando dalla Transnistria fino a due anni fa, quando il confine fu blindato. La strana assemblea che ieri per la prima volta in 18 anni ha riunito il Parlamento di Tiraspol non ha chiesto a Mosca la temuta annessione, che anche Maria Zakharova ha definito una pura congettura, ma solo un generico aiuto economico. Quindi durante la prima riunione da quel referendum del 2006 che certificò la separazione dalla Moldavia, arrivata al termine di un conflitto scoppiato col crollo dell'Unione Sovietica e che neanche Mosca ha riconosciuto, è arrivata ai russi una non specificata richiesta di protezione economica e diplomatica. Al Cremlino hanno fatto sapere che ci stanno pensando. Ma forse la massima attenzione russa è rivolta a quelle armi che si trovano a Kobansa, in uno dei più grandi depositi dei tempi sovietici, sui quali non possono più mettere le mani, proprio perché la guerra in Ucraina ha bloccato ogni spostamento. Dall'altra parte del fiume Dnistro c'è la Moldavia, il paese con lo status di candidato all'Unione Europea. Fin dall'inizio della guerra, nella vicina Ucraina, la presidente Maya Sandu si confronta con la minoranza russa che alimenta le proteste antigovernative. Nel frattempo si cerca una soluzione pacifica con la regione separatista che ospita 1.500 soldati russi da 32 anni. Per la Moldavia quella di ieri a Tiraspol è stata un'azione di pura propaganda per farsi sentire al Cremlino e ricordare che ci sono oltre 200.000 cittadini russi in quella striscia di terra senza sbocco a mare. Andare in soccorso dei propri concittadini è parte delle teorie del cosiddetto mondo russo, è stata la base dell'annessione della Crimea e delle aggressioni del Donbass. Potrebbe funzionare per la Transnistria, ma ai lati della striscia che ne porta il nome ci sono Ucraina e Moldavia, soprattutto a sud c'è la Romania e proprio lì vicino una base Nato. Veniamo in Italia. Oggi in Parlamento c'erano le comunicazioni, le spiegazioni, diremmo forse nel linguaggio parlato del Ministro dell'Interno, piante dosi rispetto ai fatti che sapete di pochi giorni fa. A Firenze e soprattutto a Pisa i colpi di Manganello nei confronti dei giovani che manifestavano. Per il Governo quello che è successo ai cortei a Firenze e Pisa la scorsa settimana non giustifica le pesanti critiche rivolte dalle opposizioni alle forze di polizia. Consentitemi tuttavia di sottolineare il diritto degli appartenenti alle forze di polizia di non subire processi sommari. Siamo aperti a ogni indagine autocritica, aggiunge il Ministro dell'Interno, piante dosi, che nella sua informativa al Parlamento si dice turbato dalle immagini dei ragazzi colpiti dalle manganellate. Ma rilancia sostenendo che a Pisa la manifestazione non era autorizzata, il tentativo di sfondamento pesante è reiterato. Dopo il 7 ottobre, con lo scoppio della guerra tra Israele e Hamas, sono aumentate le manifestazioni, riferisce ancora piante dosi che sottolinea il rischio infiltrazioni nei cortei e parla di clima di crescente aggressività. Lo dimostrerebbe l'aggressione alla volante ieri a Torino da parte di un gruppo di antagonisti. Il Ministro ribadisce poi di condividere le parole di Mattarella sui manganelli, sui ragazzi come fallimento, ma respinge le accuse al Governo di voler creare un clima. Veramente, Ministro, siete stati lei e la Presidente del Consiglio Meloni a dire che la sinistra fomenta l'odio, interviene in aula Mauri PD. In piazza c'erano i nostri figli, altro che organizzazioni paramilitari, aggiunge Mauri, che lancia una sfida a piante dosi. Poi c'è una cosa che però non funziona. Si chiama articolo 11. Nell'articolo 11 il DDL, la prima firma a piante dosi, dice che non sarà più un illecito amministrativo, ma sarà un reato, cioè codice penale, il blocco della circolazione fatto dalle persone senza alcun mezzo, col loro corpo. Il che vuol dire che se tre ragazzini si mettono a protestare davanti a scuola e bloccano il traffico, si beccano due anni di galera. Il clima lo state creando voi, replica sempre alla Camera dei deputati Ziello della Lega. A Pisa sono i ragazzi che hanno cercato lo scontro per avere più visibilità, sostiene. Anche lui ricorda le parole del capo dello Stato Mattarella, gli dà però una chiave di lettura diversa. È il fallimento educativo soprattutto delle famiglie di quegli studenti che hanno cercato lo scontro con le forze di polizia. Il fallimento di alcuni docenti che hanno soffiato sul fuoco della protesta. Nel pomeriggio il bis di piante dosi in Senato, l'intervento del 5 Stelle, Patuanelli scatena il caos, smettila di abbaiare, urla Rapani, fratelli d'Italia, interviene il presidente la russa. Vergognati e tacci. Senatore Sensi la richiamo all'ordine. Senatore Sensi la richiamo all'ordine. Senatore Sensi, se c'è stata questa frase, sia decisamente da censurare. State legittimando l'arroganza del potere. Per lei è normale dire alle famiglie di Cutro che è colpa loro perché non dovevano partire. Diventa sacro santo modificare il codice penale per introdurre il reato di Reve, ma poi andate con la pistola alla festa di Capodanno. Le parole di Patuanelli che accusa la premier Meloni di comportarsi, si dice, come il Salvini del papete. Ora difendete la polizia, ma durante il governo Draghi stavate con i Novax a Trieste. Ma la presidente Meloni con quella frase spazza via anche la polemica imbarazzante tra chi sta con le forze dell'ordine e chi contro. Perché si riferisce a quella volta nella mia città a Trieste dopo giorni di blocco delle operazioni portuali da parte non di lavoratori portuali, ma di tantissimi Novax che da tutta Italia stavano raggiungendo Trieste, si decise di sgomberare quella piazza. Quella volta Fratelli d'Italia chiese le dimissioni della ministra Lamorgese perché stava con i Novax, non con le forze dell'ordine. Non con le forze dell'ordine. Questo è il clima e sabato ci sarà una manifestazione ancora a Pisa. sommessamente, non per fare in nessun modo i professorini, consiglieremo a tutti a Pisa, sabato anche, prima o dopo la manifestazione, di andare nella zona in cui c'era il Cine Club, in cui iniziò la grande avventura dei fratelli taviani. Oggi Paolo, il minore dei due, se n'è andato all'età di 92 anni. Sei anni fa se n'era andato Vittorio, il più grande dei due. Rivediamolo in questa fotografia insieme. Vabbè, prima questo è Paolo Taviani che se n'è andato oggi. Vediamo l'altra foto insieme al fratello Vittorio. Loro hanno fatto del cinema impegnato, del cinema culturalmente fortissimo, ma che resta tuttora integro e anche a fronte a quelle tematiche che oggi si vorrebbero riprendere. Ricordo alcuni capolavori, i sovversivi. San Michele aveva un gallo che forse è il più bello, ma poi Padre Padrone, Alon Sanfano. Insomma, un ricordo anche, se volete, sgrammaticato, ma sentito, di questa coppia che ha fatto tanto per il cinema italiano. Andiamo a vedere, però, restando alla politica, che, come sappiamo, sono giorni, non solo per quello che abbiamo appena visto e sentito di forti tensioni, perché tra dieci giorni in Abruzzo la controprova di quel che è successo in Sardegna può segnare in un modo o nell'altro poi la lunga volata verso l'europea. La nota con cui ieri sera il centrodestra ha blindato la ricandidatura dei governatori uscenti di Basilicata, Piemonte e Umbria come prima risposta alla sconfitta in Sardegna. Con il campo largo a sinistra, galvanizzato dalla vittoria di Alessandra Todde e convinto di potersi giocare i prossimi appuntamenti a partire dal test tra dieci giorni in Abruzzo, la maggioranza prova a dare un segnale di compattezza, quella mancata in Sardegna per il lungo braccio di Ferro Salvini Meloni sul nome di Truzzo, poi imposto dalla Premier. E dunque sto alle dispute interne. Il forzista Bardi proverà il bis ad aprile in Basilicata, così come Cirio, sempre Forza Italia, a giugno in Piemonte e la leghista Tesei in Umbria in autunno. Siamo soddisfatti, questo rafforza la coalizione e i candidati. Le candidature fatte in anticipo permettono di allargare i consensi, commenta il Vice Premier e il leader azzurro Tajani. Per il suo omologo leghista, dopo cinque vittorie una sconfitta ci sta, seppure di misure. Serve da insegnamento? Quando perdi è giusto domandarti perché hai perso e lavorare meglio, dice Salvini. Il 10 marzo si vota in Abruzzo e una partita completamente diversa si vince e si vince bene. Dall'altra parte il leader 5 Stelle Conte impegnato in un tour elettorale in Abruzzo è convinto che il vento del cambiamento soffierà anche in questa regione. La sconfitta in Sardegna è la prima amara lezione per Meloni. Il segno di un clima che nel paese sta cambiando dice Conte che attacca la Premier che proprio oggi ha annunciato lo sblocco delle risorse per la ferrovia Roma-Pescara. Sono promesse mirabolanti la campagna elettorale un segno di grande debolezza. In Abruzzo contro l'uscente Marco Marsilio primo presidente di regione targato Fratelli d'Italia il centro-sinistra si presenta al gran completo a sostegno dell'ex rettore dell'Università di Teramo Luciano D'Amico. Un'unità che però per le prossime sfide regionali stenta a decollare. PD e 5 Stelle sono ancora lontani da un'intesa per Basilicata e Piemonte e da azione Calenda Avverte se il PD continua a farsi dettare le condizioni dal Movimento 5 Stelle Conte se lo mangerà se viceversa avrà la forza di trovare candidati riformisti e seri noi ci saremo se i politici come le persone qualunque andranno verso l'Abruzzo dalle loro rispettive città potranno farlo portandosi dei bagagli anche tanti come è successo fino ad oggi perché è stato rinviato il cambiamento che interessava Trenitalia che interessava le ferrovie riguardo alla possibilità di portare appunto valigie ed altro sui vagoni La marcia indietro di Trenitalia arriva a poche ore dall'introduzione delle nuove regole che avrebbero rivoluzionato il trasporto bagagli sulle frecce allineandolo a quello degli aerei low cost domani invece nulla cambia si potrà continuare a viaggiare con tutte le valigie e trolli a seguito senza limiti e senza pagare molte almeno per ora il nuovo regolamento è stato sospeso dopo la sollevazione dell'associazione dei consumatori introduce la regola dei limiti di due bagagli per passeggero che avrebbe dovuto rispettare anche certe dimensioni a seconda del servizio acquistato 161 centimetri nello standard premium la vecchia seconda classe 183 centimetri in prima classe executive business i bagagli potevano essere sistemati soltanto negli spazi indicati dal personale evitando di bloccare i corridoi di transito vestiboli e le porte d'accesso situazioni piuttosto frequenti durante le vacanze quando i treni ad alta velocità vengono presi d'assalto dai turisti e nei vagoni lo spazio dedicato alle valigie è insufficiente rispetto al numero dei passeggeri ma il nuovo regolamento prevede anche tutta una serie di norme per i bagagli speciali sci, carrozzine, passeggini, strumenti musicali, monopattine e biciclette che possono essere trasportati oltre ai bagagli consentiti ma a patto che la soba delle dimensioni totali non sia superiore ai due metri il mancato rispetto di queste regole avrebbe comportato una sanzione di 50 euro e la discesa del mezzo alla prima stazione regole così stringenti e rigide che hanno portato le associazioni di consumatori a chiedere a Trinitaria a quanto pare non l'unica ad aver introdotto queste limitazioni la sospensione delle regolamenti in attesa di un incontro fissato il 6 marzo con l'azienda il trasporto ferroviario non può essere equiparato a quello aereo sostengono i consumatori inoltre se in vigore da domani la mancanza di comunicazione chiara e adeguata avrebbe causato gravi danni ai passeggeri tutti possono sbagliare l'importante è che se ne prenda atto domani si comincia a decidere se si può riaprire o se non è il caso di farlo come molti pensano il fascicolo della strage di erba sgretolare le prove che hanno portato alla condanna di Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di erba e riscrivere la verità giudiziaria che 13 anni fa la sentenza definitiva è del 3 maggio 2011 li ha condannati all'ergassolo con l'accusa di aver ucciso Raffaella Castagna il figlio Iusef Marzuc la madre Paola Galli e la vicina di casa Valeria Frigerio l'obiettivo dei legali di Bazzi Romano è questo e ci ha creduto il sostituto procuratore generale di Milano Cuno Tarfusser che presentò la prima istanza di revisione per questo atto è stato sanzionato ieri dalla disciplinare del CSM con l'accusa di aver violato le linee guida in tema di revisione dei processi domani all'udienza per la revisione davanti alla seconda sezione della corte d'appello di Brescia ci saranno i due condannati tre i capisaldi della condanna da ribaltare più mi chiamo più cortellato più mi sentivo è stupido a dirglielo forse non dove a dirglielo ma non mi sentivo più stupido mi sentivo forte il primo le confezioni di Olindo e Rosa sempre ritenute genuine e credibili fitte di dettagli che solo chi era presente quell'11 dicembre 2006 poteva conoscere ogni minimo è più atroce particolare spontanea coerente ritrattata senza alcuna ragione o prova consistente scrisse la procura di Como ma nelle istanze di revisione si parla di due persone affette da un disturbo psicopatologico a Rosa è stato addirittura accertato un ritardo mentale un disturbo di personalità dipendente il secondo cruciale la testimonianza di Mario Frigerio il vicino di casa e marito di Valeria che si salvò per una malformazione alla carotide si è stato tu disse guardando Olindo ma descrisse una figura diversa da lui secondo l'istanza di revisione nella mente di Frigerio si è formato un falso ricordo indotto da quello che gli è stato suggerito mentre in ospedale stava male il terzo la traccia di sangue di Valeria Cherubini trovata sull'auto di Olindo avrebbe in realtà una genesi sospetta cosa succederà domani in aula la procura generale di Brescia presenterà una memoria che sarà depositata poi la parola passerà alle parti civili a Zuzmar Zuc che il marito di Raffaella Castagna e padre di Yousef è l'unico tra le parti civili a dubitare della condanna all'ergastolo della coppia infine parleranno i legali della difesa i giudici si ritireranno dunque in Camera di Consiglio potrebbero respingere per intero l'istanza di revisione e a quel punto resta tutto com'è oppure con un'ordinanza decidere quali prove a mettere e il processo ricomincerebbe da capo spero in un processo sereno a Brescia scritto in una lettera Olindo che insieme alla moglie ora si professa innocente io e Rosa ci saremo infine il calciatore della Juventus Paul Pogba è stato condannato a quattro anni di squalifica per doping è stata accolta così la richiesta della procura antidoping visto che il 31enne centrocampista francese era risultato positivo a un controllo dopo la partita Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto non ho mai preso consapevolmente o deliberatamente integratori che violano le normative antidoping ha detto Pogba per questo farò ricorso al tribunale arbitrale per lo sport è tutto Gruber Formigli ci vediamo domani sera buonasera grazie a tutti